Tra pattoni, lo scudetto, la coppa, i ricordi. Nel calcio tuttavia non c'è spazio per la nostalgia. La Juventus è una squadra vera anche senza colà. L'Inter da tempo dimostra limiti ed essendo priva di Matteus non possiede nemmeno la forza necessaria per promuovere il gioco e per attaccare. E' molto ben messa sul campo la Juve invece ed il palo di Casiraghi dà la netta sensazione che i nerazzurri non abbiano scampo. Il primo gol bianconero nasce da questo intervento di Bergomi sull'effervescente di Canio. Un intervento sul quale l'arbitro non ha dubbi. Gli interisti forse si lamentano per un complesso di decisioni sfavorevoli. Baggio è un maestro dagli 11 metri. E per la verità c'è questa manata di Julio Cesar su Klinsmann a indispettire gli interisti. Ma che dire sulla manovra bianconera del secondo gol? Baggio e Casiraghi duettano alla grande. E' un gran gol che ha l'effetto di un K.O. per l'Inter. Da parte loro i nerazzurri non riescono a dar concretezza nemmeno alle occasioni più propizie. Suarez nel secondo tempo manda avanti l'affanteria. Ferri cerca il gol prima che Reuter, Baggio e Schillaci mettono in cantiere l'azione della seconda rete. Anche questa è una manovra che mette a nudo le carenze degli interisti e l'abilità dei bianconeri che si rivelano anche brillanti. Reuter e Galia, a parte Baggio, sono implacabili. Insomma la reazione dell'Inter ed il gol del 3-1 propiziato da Fontolan non riescono ad addolcire un calice amarissimo. Alla fine c'è chi rimpiange un ricco mentre Roberto Baggio, uscito fra gli applausi, dice Se mi fa piacere così che uno stadio intero mi aveva applaudito però purtroppo un problema ad un tendine alla fine del primo tempo mi dava fastidio allora avevo chiesto al mister così se avessi avuto ancora noia di uscire tutto qua. Si sente il leader della Juve? Ma io l'ho sempre ripetuto, io in una squadra non c'è un leader solo, ci sono dei grandi giocatori che fanno una grande squadra.